Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova lezione di storia. Vi siete già iscritti al canale? Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subito e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati. Oggi conosceremo un nuovo personaggio. Concentratevi attentamente sulla figura femminile. La riconoscete? Chi è? Di chi si tratta? È la regina Isabella di Castiglia. Proviamo ora a rivolgerle qualche domanda. Ciao, che sei? Salve, sono Isabella, figlia dei sovrani del regno di Castiglia Leon. Sono rimasta orfana di padre in tenera età e il periodo della mia infanzia che ho trascorso alla corte castigliana non è stato facile. Però, sin da piccola, sono riuscita ad esprimere la mia personalità, forte e decisa. So che, grazie alla tua risolutezza, contro anche il parere della tua famiglia, hai sposato l'uomo che amavi, che è quello rappresentato con te nell'immagine. È vero? Sì, è vero. Ho scelto in autonomia il mio sposo, tra diversi pretendenti. È Ferdinando d'Aragona. L'amavo e l'ho sposato nel 1469. Il nostro matrimonio portò anche dei vantaggi economici e territoriali. Nacque il Regno di Spagna, proprio grazie alla fusione della corona di Castiglia Leon con quella di Aragona. Perché sei ricordata come la regina cattolica del Regno di Spagna? Sono molto religiosa e quando sono divenuta regina di Castiglia ho consacrato il Regno a Dio e ho giurato fedeltà alle leggi della Chiesa. Pensa che alla caduta di Granada il Papa Innocenzo VIII ha conferito a me e a Ferdinando il titolo di Maestà Cattoliche. Ah, la caduta di Granada! Con cui fu completata la Reconquista? Sì, nel 1492. Cacciamo gli Arabi da Granada, la loro ultima roccaforte, e completammo la Reconquista. Poi allontanammo dal Regno anche gli ebrei. Li consideravamo nemici della cristianità. La cacciata degli Arabi e degli ebrei e le conquiste territoriali provocarono un generale entusiasmo nazionale. Fu proprio questo che ci spinse a sostenere il progetto di Colombo, la spedizione verso le Indie. Ne avrai sentito sicuramente parlare. Fu dunque proprio grazie a voi che avvenne il processo di unificazione della Spagna. Certamente, e non solo grazie all'espansione territoriale, ma anche attraverso l'accentramento di tutti i poteri nelle nostre mani, che ci permise di consolidare la nuova monarchia spagnola. In che modo? Abbiamo avviato una riforma dello Stato, diminuendo i poteri e i privilegi della nobiltà feudale e limitando i poteri delle cortes, cioè dei parlamenti regionali formati dai rappresentanti della nobiltà, del clero e della borghesia. In seguito, grazie anche alla già ricordata spedizione di Colombo, la nostra monarchia divenne la monarchia più ricca e potente del mondo. E tu? Lo sai che l'impresa di Colombo fu finanziata dai sovrani spagnoli, ma l'ammiraglio era italiano. Di quale città? Prova un po' a cercarlo in rete. Arrivederci al prossimo incontro. Non dimenticare il like. A presto!